Ciao a tutti ragazzi sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale, sono qui in compagnia di mia moglie Buonasera E continuiamo con la seconda avventura tutorial di Dungeon Saga, gioco che siamo interessati a portare a compimento quindi vogliamo portarvi in gameplay o in live, ora comunque vedremo un po', comunque vogliamo fare il gameplay di tutto il gioco base anche perché abbiamo preso l'espansione Il Ritorno di Valandor e quindi vorremmo giocarla, Il Ritorno di Valandor è il continuo di questa storia Comunque oggi gli eroi chiamati in campo in questa avventura che si chiama Viaggio da Oriente sono l'Elfa Madriga e il Mago, lo Stregone e Danor Ora poi vabbè si leggono le abilità, le carte, quello che hai Comunque si vede tutto il tavolo, anche qui Si vede un po' qui, però ho deciso di far vedere più in là Settaggio dalla partita iniziale, Madriga l'Elfa parte con una pozione di cura Danor parte con Cristalli del Potere, cena 3 Che consentono praticamente di stappare un incantesimo Tanto era per iniziare, te lo spiego E comunque se te leggi la descrizione qua su in cima C'hai due incantesimi minori e due maggiori Metteli da un lato e dall'altro Cioè quelli maggiori da un lato e quelli minori dall'altro Io intanto leggo l'avventura Danor imprecò Aveva perso il conto di quante volte era incespicato tra i detriti sotto i suoi piedi Lo stesso non accadeva alla mano che stringeva il suo braccio Gli stava provocando un livido sotto alla veste Ne era certo Per quanto sembrasse esile e delicata La forza dell'Elfa incuteva una certa soggezione Una soggezione perfino maggiore da quella che derivava dalla totale assenza di espressività sul suo volto Danor avrebbe voluto provare a parlarle Ma il silenzio tombale del luogo lo invitò ad esistere Mai una smorfia o un'espressione di rabbia Avrebbe colto un suo qualunque accenno di emozione come una rarità Ma a prescindere da ciò che le accadeva accanto O da quello che odivano le sue orecchie Fin dalla prima volta in cui conobbe Madriga Il mago in lei non vide nient'altro che l'impassibilità più totale La cosa lo inquietava Si stava tenendo in piedi a fatica quando la morsa del suo braccio si serrò Stava per protestare ma l'Elfa lo zitti subito Stava fissando qualcosa alle sue spalle Si voltò a suo volta scrutando l'oscurità Lo sferragliare di un'antica cotta di maglia che cozzava contro le ossa anticipò la visione del Revenant Dunnor si preparò mentre il suo braccio era finalmente libero e l'Elfa impugnava il suo arco Osservandolo per un istante Dunnor notò una scintilla nei suoi occhi Ed un sorriso appena accennato sul suo volto scolpito Il fatto lo colpì al punto che Per una frazione di secondo Non fu sicuro di quale fosse l'aspetto più inquietante di quella situazione In questa missione ti devi trovare una porta ed aprirla Per andare via dal dungeon come nella prima missione Invece il mio obiettivo Che sono il Dungeon Master ma tiriamo contro Ti devo incapacitare uno degli eroi Quindi se uno degli eroi finisce a 0 punti ferita Io ho vinto Quindi devi stare attento Ora Setup iniziale c'è questa porta Che non ha una serratura Perché sennò te ce la metteva accanto Ti ricordi dove vi rompe Ha una serratura magica E per aprirla servono due turni Quindi due azioni e due turni Perché l'azione in questo gioco non può fare due volte la stessa Te lo ricordi? Azione e cioè movimento e azione o movimento e attacco Questi qui sono mucchi di non morti E ora leggi le abilità speciali dei tuoi personaggi Prima quella di Madriga Una sola volta per partita Madriga può tirare tre volte nello stesso turno Risolve ogni attacco prima di decidere chi sarà il prossimo bersaglio Ok E ricordo che le abilità si usano una volta a partita Ti ricordi no? Ok Vai quella di Danor Il modello può lanciare incantesimi come azione nel proprio turno Ok no vabbè quello è quello che sa fare Però l'abilità del giorno Ah è vero scusate Mamma mia si vede che sono malato Una sola volta per partita Danor può lanciare un massimo di tre diversi incantesimi maggiori Possono essere lanciati perfino se si stanno ricaricando Gli eroi di questa avventura sono sempre due Perché di solito in Dungeon Saga si usano tutti e quattro gli eroi Però in questa partita Perché è un'altra partita introduttiva Almeno ti fa usare tutti gli eroi Sono due Ora Mia moglie col mago ha quattro incantesimi Ti ricordi in questo gioco è come Hero Quest Un movimento e un attacco Non può fare né due movimenti E non può fare due attacchi no? Devi fare uno e uno O un'azione di ricerca o altro Gli incantesimi Se attacchi in corpo a corpo Tiri dadi che c'ha del corpo a corpo Ti ricordi Se tiri un incantesimo Per un'azione di attacco Ne puoi tirare o due minori Ok? O uno maggiore Poi te li leggi tanto con calma Però usali Perché il mago deve castampi Che è un corpo a corpo Ne puoi usare due minori Nello stesso attacco O uno maggiore Quando Ti faccio vedere Fai conto questo è un incantesimo no? Lo faccio vedere anche la telecamera Quando usi un incantesimo minore Lo devi girare di 90 gradi Quando usi un incantesimo maggiore Lo devi girare di 180 gradi Questo perché? Perché quando poi inizia Il turno successivo Che ti tocca a te Li rigiri di 90 gradi Quindi Un potere Basico Leggero Lo usi tutti i turni Perché tutti i turni si distappa Un potere maggiore Dovrai aspettare Dovrai aspettare due turni Perché sono quelli più potenti L'abilità speciale una volta al giorno Basta Si può iniziare L'incantesimi Te li voleggi un attimino O te li leggi poi nel corso Del Ok Allora Quello che vedi È questa cosa qua giù Qui ci sono due mucchi d'ossa Ah Io ora pesco tre carte Ti ricordi C'ho le carte Lord Supremo E alla fine Di ogni turno Ne devo ripescare una E ne posso usare Solo una a turno Quando questo mazzo finisce La partita è finita Quindi te devi finire La partita C'hai tipo Contiamole un attimo C'hai tipo Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove turni Per farti capire E te devi trovare L'uscita Devi trovare la porta E ti conduce all'uscita Ok Queste sono le mie carte Ne posso usare una sola a turno E io in questa missione Ho due comandi Quindi posso fare due movimenti Solo dei mostri Cioè posso fare solo due cose Tocca a te Quelle sono i cumuli di morti Che Sono lì E sai che qualcosa ci sponerà Ok Punto Allora Le porte si aprono solo con la magia qui Perché non c'è la serratura Se ti ci metto la serratura accanto Le spacchi A botte Se no con la magia E le serrature Le può aprire anche il guerriero È una serratura magica La differenza è che Devi andare Questo c'è una serratura magica Di un valore di due Che sarebbe Questo qui Ce lo metto accanto A un valore di due Quindi vuol dire che Per ogni turno Che ci fai un'azione No Scusa Per ogni azione Che ci fai a quella porta Lo fai scalare di uno Però vedi una porta bastarda Perché è messa in una casella sola Non è una porta a due Quindi soltanto uno dei due eroi Ci può andare a fare quell'azione E quell'altro non è che Le può passare sopra Capito Quindi dovrai aspettare Due turni per aprirla Se hai incantesimi Guarda un po' Che ti consentono Di abbassare il tempo Di una porta magica Lo puoi usare Ma non penso C'è qualcosa che ti dice Abbassa il tempo Di apertura di una porta No Sembrerebbe Sembrerebbe di no Qua la posso attaccare Sempre con la magia No? Sì Devi No 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 Devi usare un'azione È come aprirla È come se lui va lì E resce Le formule magiche Per aprire la porta E richiederà due turni Quindi Allora Ricordati che questo Dove guarda il personaggio E dove vede Te lo ricordi In Dungeon Saga È come Space Out Ugual Allora Lui c'ha movimento sette Sette Il mago È il magetto Sì Guarda Uno Sì Ti può muovere anche in diagonale In questo gioco Quindi può da fare Sì sì Uno Ok E si gira così Sì Ok Quindi lui Fa un'azione Per aprire la porta E se non erro Forse era dalla parte Vabbè Ricordiamocelo Dai Due Ora è uno Vai Poi Quindi lui sta facendo L'azione sulla porta Lui sta facendo L'azione sulla porta E quindi ha finito lì L'elfo Non puoi tirare Comunque sui mucchi Perché i mucchi Non si possono distruggere Però quello che c'è Però lo puoi spostare Sì lo puoi spostare Uno E due Ok La metto a difesa Di quell'altro E sta in difesa Ok Aspetta un altro Sì Con la stessa azione Può passare anche gli oggetti È uno in In contatto Ok No Niente Aspetto te Aspetta Quindi Turno mio Il mazzo degli eventi Non si avvia No Turno mio Ora io ho due comandi Ok Ho due comandi A turno Quindi Il comando Più Posso giocare una carta Potrei giocare anche comandi extra E cose del genere Però I morti Quando vengono evocati Dal cumulo di ossa No Non possono agire Nello stesso turno Perché sennò Sarebbero troppo forti Ovviamente Però Io lì Questi due Li tolgo E come mie due azioni Del Questi tile Sono odiosi E lo dico Il gioco È il mio dungeon crawler Preferito dopo hero Questo ma questi tile Non si possono vedere Purtroppo Non ne posso avere Non ne posso avere più di uno In campo Allora metto questo E poi metto Posso evocarli come mi pare Ovviamente per Per quelli che c'ho scritto qui Vedi Zombie in armature Queste cose qua Non posso evocare ovviamente Mostri grossi Mostri grossi Non ne posso mettere O anche Perché si evocano Soltanto scheletri Non posso mettere Fantasmi E cose del genere Però potrei mettere Un revenant nano O altra roba Io metto Questa qui Questo scheletrino E non posso muoverli Non posso fare nient'altro Perché appena evocati Sono lì Quindi nuovo turno Ritocca a te Io devo O gioco una carta O comunque la scarto Perché comunque una La devo La devo pescare Quindi direi che Scarto Questa E prendo Questa Allora L'arcela Ti do Già questa qui Lunga Quindi vedete Su chi tiri Ma tanto Comunque c'è visuale Su te due Tiri sull'arciere Tiro sull'arciere Ok Quanti daddi C'hai agitata Quattro Ok Tira quattro daddi blu E Su chi stai tirando Sull'arciere Arciere Scheletro Arciere Scheletro C'ha armatura uno Quindi devi fare due o più Per colpirlo L'uno lo levi E Tira I dadi Che c'ha In Combattimento Quindi ne tira due Tira due dadi Per la sua difesa Ti ha fatto Quelli lì E io Ho fatto Tre uno Quindi il mio più alto Va col tuo più alto Il mio secondo Va col tuo secondo Quindi come vedi Sono entrate tre ferite E quando fai Tre o più colpi L'hai distrutto Completamente E non ci si mette nemmeno Il mucchio d'ossa Quindi l'hai distrutta L'hai distrutta L'hai polverizzata Tre ferite Potresti muoverti Ma no Si non puoi fare O se usi la sua abilità speciale Puoi tirare più volte Però Ormai no Ma lì non possono apparire Più mostri No Se c'è torto Quando Quando evochi uno scheletro Il mucchietto d'ossa Va via Però se ti ammazzi Un non morto E gli fai due punti ferita Lo ammazzi Ma diventa No Uccidi lui Però diventa un cumulo d'ossa Capito Se non lo disintegro Se non lo disintegri Per disintegrarlo Devi fare i tre punti feriti Almeno Ma quello che dicevo io Non c'è più Il cumulo di No non posso più evocare niente Lì in quella casa Non c'è più nessun altro No Ma qua non era meglio Che lo lasciavi Il cumulo di ossa qua sotto No l'ho voluto evocare Perché ora poi Almeno lo muovo Poi dopo Ok L'elfo non può fare nient'altro Si potrebbe muovere Tutto al più Passare un oggetto al mago Però non può Non può riattaccare Ma come fai ad essere evocare Altri mossi Che non c'è più Aspetta di aprire la porta Poi lo vedi Comunque Vabbè Tocca Non lo so Solo tocca al mago No Faccio toccare al mago Che va Fa separazione sulla porta Ok Il Il mago Fa l'azione sulla porta Quindi La finisce La apre La apre Vediamo un attimino Cosa mi dice la missione Quello che c'è di là È questo Ok Ora il mago Ha fatto la sua azione Potrebbe o attaccare O attaccare O muoversi C'è là un incantesimo Che non richiede visuale Lo vedi c'è L'occhio barrato In alto a destra Se c'è il disegno Di un occhio barrato Vuol dire che lo può usare Anche senza Questo qua Cos'è Minore o maggiore Maggiore Vai Lo puoi fare Cosa dice Il bersai non può muoversi Per il resto del round A che distanza Gittata Gittata lunga Gittata lunga Misura Ma ci arriva penso Vai Allora Tappalo Di 100 La porta attaccherà Difenderà come un dado in meno Vai Allora giralo Di 180 gradi Ok Vai Quindi lui c'ha i piedi per terra Lui è completamente La terra di pietra Lui è completamente bloccato E non si può muovere Nuovo turno Cioè nel senso Nuovo turno Tocca a me Io uso O uso questo O uso questo Anzi invece Parte Parte uguale Fammi fare una cosa Io uso Animare Questa qui Animare i morti Ok Tre E quindi mi fa animare Tre cumuli E qui E qui E qui Li leviamo E ci rimetto L'arciere Che mi ha ucciso E un nano Non morto Dov'è l'arciere Quello di prima Che era morto Un nano Incazzoso Non morto Qui E due 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 Tre Se lo sono a fa Uno E due Sì vabbè Lasciamola lì Non posso fare nient'altro Pesco un'antacarta Perché ovviamente Non ti posso attaccare Lui ora però Se rimuove Nuovo round Prima di tutto Gira la magia Di 90 gradi Ok Perché non è ancora pronta Vai Tocca a te Se vuoi attaccare Lo scheletro guerriero Con l'arco C'ha armatura due Quindi passano Il tre o più I colpi Quattro dadi Quelli col tre o più Passano Quindi l'uno Lo togli E Cos'è Un guerriero Difende con due dadi Quindi già comunque Una ferita Gliel'è fatta Il mio più alto E il mio secondo più alto Quindi tre ferite Disintegrato Ok Vai Ti rimane un movimento Se vuoi Girata così Però guarda Verso di qua Ok Sì sempre c'è il fronte Poi Ah no Aspetta 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 Ah No vai vai Soppa l'una Vai Per me lo può mettere Dove ti pare Quello che vedi E quello che c'è Non ci sono sorprese Aspetta No i movimenti Ce ne ha otto Sto un attimo Calibrando Uno Due Tre Sì sì Calcola Non ti mette fuori a nessuno E giro Allora aspetta Faccio così Era qui Sì Uno Due Tre Quattro E si gira ovviamente Così No No aspetta Era qui Meglio così Così tiene il fronte di tutti Così vede tutti e tutti vedano lui Non può attaccare No Mentre lui invece si muove di sette Uno Due Tre Si gira Tre Sì Si gira Con cosa Si tanto Guarda La cittata la levo Arrivi Gittata corta Ah no Gittata corta è questa però Sul nano Ah sul nano Sì ok Non c'ho bisogno di quei cosi Incenerire Il bersaglio subisce Un attacco magico A quattro dadi Eh Maggiore o minore Maggiore Ok Quindi Un attacco magico A quattro dadi Sì Ok Il Revenant nano però C'ha armatura tre Quindi solo col quattro più passano Eh lui è bello carazzato Sì ma Eh l'armatura ce l'hanno sempre Tiri quattro dadi Cosa ti ha detto? No allora Uso una di queste Che tiro un altro dadi in più Cinque dadi Queste qui sono useggetta eh Quindi una volta usata la scarti C'è scritto di metterla a novanta gradi Di metterla? Ah no scusami Scusami No 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 hai ragione No perché Sono potentissime Allora vai Quindi cinque dadi Cinque dadi Al quattro più eh Quindi Queste e queste si tolgono Quindi ha fatto tre danni E quattro Lui tira Quattro Il Revenant nano Quindi Il sei col tuo sei Quindi te l'annulla Il sei col tuo quattro Gli ha fatto due ferite Sei e quattro Sì Due ferite Il Revenant nano Con una ferita Non gli fai niente Con un colpo Con due colpi Ah uguale Con due colpi Lo distruggi E ci rimane il mucchietto d'ossa Ne ho usato uno maggiori Quindi non puoi più usarne Passi il turno Tocca a me E per le carte che ho in mano Io uso Due comandi extra Quindi questo turno Sì Uso due comandi extra Quindi questo turno Ho quattro comandi Li gira all'insù Almeno le vedi Che l'hai usata finora Due comandi extra Ovviamente Qui il primo Lo levo E ci faccio riapparire lui Ma che palle Che sei Subito Poi C'ho Il secondo Il secondo comando Lui Non può tirare sul mago Perché c'ha lui davanti Però tira su Sull'arciere E il mio arciere Ha Un pochino Arciere scheletro Gittata lunga Tre dadi Quindi tira sull'elfo E quanto c'ha D'armatura l'elfo? Due Quindi col tre o più Passano Ok Quindi ho fatto un sei E un tre Quanti dadi tira? Mi tira due dadi No no Questa via l'armatura Dadi Devi usare i dadi Da combattimento Tre Ok Quindi il sei Mi annulla il sei L'uno Niente Quindi si becca Un danno Ok E scalo Perfetto E questa è la prima azione Seconda Ce n'ho altre due E faccio Si muovono di Tutti di quattro Quindi faccio Uno Due Tre E quattro Uno Due Tre No 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 lo posso fare Lo posso fare Però poi non può attaccare Tre Fine Finito Pisco una nuova mano Nuovo turno E Allora uno è pronto E uno Ah l'ha già fatto Si è avvantaggiato Perfetto Ok Questa è la situazione Allora facciamo madriga Madriga Se vuoi usare sempre la sua abilità Lo puoi fare Quella potentissima Qua è indebolito Si Quando vai lì Diventi indebolito E praticamente Tutte le azioni che fai Di combattimento Gittata Difesa Insomma Ogni volta che devi tirare un dado Tiri un dado o meno Allora mi curo Ok Vai Fine della pozione Poi Cicchettino Quindi uso Dadi da combattimento C'è sempre due azioni Perché usare la pozione Non ti costa un'azione Anzi Uso Salva Salva di frecce Madriga può tirare Tre volte Nello stesso turno Quindi posso fare Tre attacchi Si però leggila tutta Un attimino Risolvi ogni attacco Prima di decidere Chi sarà il prossimo bersaglio Eh Allora Primo su chi lo fai Primo attacco Su Attacca tre volte Ovviamente Boia Sull'arciere Pioggia di frecce Vai Tira sull'arciere Tira i tuoi dadi La agitata Quattro Passano i colpi Col due o più Quindi a parte questo Aspetta Se le leviamo No col due o più passano Col due o più Quindi ha fatto Quelli lì E l'arciere Si difende Con due Quindi Tutte Ti ha fatto la bellezza Di tre ferite Tre ferite Quindi è esploso E non ci rimane niente Vai Hai altri due attacchi Attacco Caputtana Da vicino Da digita Hai attaccato Il guerriero Quello lì Che ha armatura Due Quindi l'uno Si leva E tutti No Anche il due si leva Perché dovevi fa tre o più Quindi questi due Quindi il guerriero scheletro Si difende con due E fa un cinque Che supera il alto quattro E un tre Quindi gli ha fatto Una ferita Al guerriero scheletro Però una ferita Non le fa niente Nessun effetto Può riattaccarlo Ancora Vai Quindi Quelli lì li levi Uno No anche il due Che devi fa tre o più Sei Annullar sei Una ferita Niente Questa volta Non è bastato A ucciderlo Ancora Ancora un'azione O si muove O O prova a aprire la porta Non lo so Ma con la magia Lei non ce l'ha la magia Non è uguale qua Chiunque 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 ad aprire la porta Apri la porta Con quell'altra Si si toglie La porta viene Aperta Tocca al mago Faccio piedi di pietra Su Revenant Lì Si Quindi Perde tutto il turno Ok E poi E' un incantismo maggiore Si E' uguale O si muove O O può fare Aspetta Si Che fa Però Perfetto Perfetto Io questo lo muovo Per andare Ah no scusa Scusa è vero Allora è inutile usare il comando extra Faccio Uno e due Eh qui mi ha inculato Perché Questo vi Dopo lo muovo Ma non può fare niente Ti arriva in corpo a corpo Ti attacca E lo scheletro guerriero Ti attacca con due dadi Lui c'ha armature a due Quindi col tre o più Uno solo Difenditi con Lui in corpo a corpo Scena tre Ma con l'arco Non può fare colpa a corpo Se Stavo parato Ma hai parato il corpo Ok vai Niente di fatto Lui lo muovo Uno due E Lo andavo qui Tanto uguale Uno due Però aspetta Lo potrei passare No Invece una cosa la posso fare Posso Passarci sopra Andare oltre Sì ma è finito Poi i cosi I movimenti Sì però ti attacco Non puoi attaccare Perché Non hai detto Che sto passando E cosa Poi non si muoveva più Non faceva più No Ti entro Non posso andare avanti Perché lui Muovendoci da qui Fa uno due Tre Quattro Siccome entra nel tuo campo Di visuale Deve per forza Fermare il movimento Entrarti in corpo a corpo E attacco con Con lui Lui Sempre uguale Tirando i dadi Niente Perché dovevo fare tre o più Non è entrato nulla Ok L'unica cosa Che non ho calcolato Ecco vedi C'avevo un dado in più Perché sono in superiorità All'America Vabbè è uguale Perché siamo in di più Siamo in tre In corpo a corpo Si inizia Pesca una nuova carta Sappa Girato Ora Che inizia il nuovo round Ti potresti fare un'azione Con madriga Per levarteli Ai coglioni Però Levandoti ai coglioni A tutti quelli Che ti sono in corpo a corpo Li dai un attacco gratis A vicenda Perché mentre provi a scappare Allora ti attaccano Giustamente Quindi o rimani a combattere O ti becchi le botte Mentre provi a scappare C'ha Meno armatura Di scheletri C'hanno due E il nano lì C'ha tre Quindi gli scheletri Questo Con la falce E questo qui C'ha quale? Il nano attacchi? Questo Ah ok Quindi hanno armatura Due Devi levare tutte e due Due Gli ha fatto una ferita Che cazzo sei La ferita Non se non è Se sei parato Niente Non hai nient'altro Puoi provare a disingaggiare A muoverti A andare via Però gli dai un attacco Gratis a tutti Ma l'ammazzano Tra l'altro ho anche sbagliato Perché te devi tirare Un dado o meno Perché sei in inferiorità numerica E tanto Ma mi ha fatto Uno schifo Quindi Vuoi provare a andare via? O no? O rimani lì? Gli eroi non subiscono Mai più di una ferita A mostro Quindi male che ti vada Ne subisci Una, due, tre Però scappi E poi dopo Prova a tirare con l'arco Sì è anche vero Che io dopo Te li muovo Un corpo a corpo Allora Prova a scappare Quindi te Semplicemente Prendi e vai via Però Prima di andare via Dai un'azione A tutti quelli Che ti sono in corpo a corpo Quindi ti attacca questo Poi ti attacca questo E poi ti attacca questo Allora Primo Quello con la falce Che tira due dadi Ti becca con tutte e due Te tira il tuo Per difenditi Però sei in inferiorità numerica Quindi tirane in corpo a corpo Uno in meno Due Quindi il 4 sul 5 Una ferita Ok Il secondo ti attacca E il secondo ti attacca E ti fa Ah no scusa Sì Entra tutte e due Quindi Una ferita E il terzo Questo niente Quello sì Il terzo niente Ok Quindi ora può andare Dove ti pare Può fare tutto il tuo movimento Ok Vai Tocca al mago Vuole provare ad aprire la porta Con la prima azione Tanto è fermo O se no Abilità Posso usare anche I incantesimi maggiori Se sono in ricarica Puoi Per esempio Se si stanno ricaricando Quindi Pili di pietra Lo rilancio Sul reverent Sul nano E non si muove E non si muove E quelle altre due Poi Incenerire Quindi questo Dove devi mettere Così giusto Sì giusto È 90 Che è 180 180 4 dadi Allora quello non si muove E su chi tiri Lo lancio Vai Che si difende Poi con due Sono uguali Gli scheletrini Sono uguali Quello più forte È il revenant Ok quindi 6 e 4 Sì Quella trillè No il 2 anche Levalo E lo difende con due Un Niente Tutte e due Quindi gli ha fatto Due ferite Lui Muore Però lascia un cumulo Qui E E lo posso rilanciare Lo stesso Visto che si sta ricaricando L'ho usato E si sta ricaricando Posso rilanciarlo Ho detto Anche In cantesimi maggiori Se lo dice sì In ricarica Sì Allora sì Ricaricando Boia Allora L'ho usato Sullo scheletro Ok No Sai che c'è Sì L'ho usato Sullo scheletro Tutti Sarebbe già morto Però vediamo se Il 4 va sul 6 Sì Disintegrato Disintegrato E non ci rimane niente E c'è un altro Maggiore da tirare No Ne ha già fatti Due No tre Hai fatto Piedi di pietra E due volte incenerire Posso Ora c'è un'altra azione Usala per aprire il portone E il portone scala A 1 A 1 Vai Quello ha perso un round Questo ha perso un round Poi chiamare un altro Mostro Io Però non si muove No da ora sì Ha perso il mio turno Ora non posso fare niente Però dal prossimo turno Potrò fare Vai Tocca a te Ah però No tocca a me No lo devi chiamare Però non si muove Faccio Non dicevo quello Eh lui non si può muove Niente faccio un animale morti Giocando la carta Sì è vero Poi ne dovrei pescare No Ho fatto qualcosa in più Ho fatto Ho fatto la cazzata Sì Devi chiamare il mostro qui Sì Il mio unico comando Lo uso Per evocare Visto che non ce n'è più Cos'è? Lo scheletrino Con l'arco Ma ce l'hai con sti archi Sì Perché allora sì Fine Non posso più fare nient'altro Perché una volta che l'hai evocati Non si possono muovere Vai tocca a te Quella è l'ultima porta Per Sì Sì Madriga Apre la porta Apre la porta E avete vinto Ora Leggiamo Sì ma sono avventure di partenza Una nuova palla di fuoco Si materializzò dal bastone di Danor Avvolgendo il guerriero Che lo stava per caricare I scienciosi stracci In cui era avvolto Si incenerirono Ma il nemico Barco Lando Continuava ad avvicinarsi In maniera inquietante Mentre le fiamme Riempivano la cavità Delle sue orbite Dalla bocca Come fosse una bominia abissale Danor arretrò Fendendo l'aria Con il suo bastone Finché non sentì La fredda pietra Contra la sua schiena Si sforzò Di restare calmo Ispirando profondamente Per focalizzare Un nuovo incantesimo Un colpo secchio E il teschio Ancora avvolto dalle fiamme Si staccò dal collo Rotolando a terra Come una marionetta A cui vengono tagliati i fili Il corpo Crollò al suolo Madriga In posizione che fino a poco fa Era occupata dal guerriero non morto La spada ancora In posizione orizzontale Dopo aver inflitto Il colpo mortale Mentre il viso di Danor Era sudato e teso Il volto di Madriga Appariva imperturbabile Come se fosse Reduce da una passeggiata Sembra che fossimo attesi Per fine le sue parole Erano misurate e fredde E non tradivano alcune emozioni Nonostante il timbro armonico Della voce Così pare Confermò Danor Col fiatone Che ne diresti Di una piccola pausa Prima di proseguire Visto Yeah Ciao Ciao Fai vedere un attimo la cosa Ragazzi Finisce così La seconda Delle due avventure di partenza Che sono due avventure tutorial Dove Ci hanno fatto vedere un po' le regole Ci hanno fatto usare I due personaggi Perché in questo Introduzione Nella prossima avventura E in tutte le altre Che seguiranno Li dovrei usare Tutti e quattro Capito Quindi ci sarà anche Sì però almeno c'è più Più turni per picchià E ovviamente Saranno più complicate Nelle prossime avventure Ci saranno sicuramente Più mostri Ci saranno più regole speciali Per il dungeon master Addirittura nella prossima Io non ho più Due comandi per turno Ma ne ho tre Insomma Giustamente Si va un pochino A Anfittir Il discorso Ragazzi Ancora una volta Io riconfermo Che il gioco è facile È veloce È divertente Forse l'unica cosa Che gli manca È la possibilità Di aprire tesori E cercare trappole Però Nel compendio Dell'avventuriero Ci sono Quindi sono regole Opzionali Che sicuramente Una volta Che saremo più impratichiti In mia moglie Lo giocheremo Devo dire la verità A me piace molto L'unica cosa Che proprio Non tollero E che non mi piace È questo fatto qui Che ogni volta Che vai a toccare Un pezzo Aspetta ragazzi Rimetto tutto in ordine Aspetta Perché basta veramente Un tocco Cioè E è distrutto il dungeon Non ti dico Potevano farlo magnetico Potevano farlo come Descent Incastro Non è che ci volesse Chissà quanto Comunque Il gioco A livello di regole È facilissimo Immediato Bello Divertente E veramente Ti rimanda indietro Di 20 anni Ragazzi Proseguiremo Con la terza avventura Che sarà la prima ufficiale Della missione Del re dei nani E una volta finita Tutta la campagna Giocheremo Il ritorno di Valandor Ciao Alla prossima